E' imperativo far esprimere alla comunità locale la propria opinione sulla possibilità di creare a Barletta un punto di approdo di un parco eolico offshore. Alla luce di questo dilemma ecologico e sociale, la Commissione Ambientale del Comune ha stabilito che la decisione finale sarà presa nel bene esclusivo della città. Tiene banco il tema relativo al progetto denominato Barium Bay, promosso dalla Hope Group. Le amministrazioni sono chiamate ad esprimere il proprio parere non vincolante sull'opportunità che venga realizzato. Barium Bay è basato sulla tecnologia dell'eolico offshore galleggiante, ha una potenza target di 1100 MW e prevede di posizionare il parco oltre 40 km a largo della costa che va da Bari fino al nord di Barletta, compreso il tratto di Giovinazzo. Saranno realizzate 74 turbine eoliche della protenza di 15 MW ciascuno che dovrebbero produrre. Grazie alla ventosità del sito, molto distante dalla terraferma, oltre 3 miliardi di kilowatt ora all'anno, ossia una quantità di energia elettrica sufficiente per soddisfare il fabbisogno di oltre un milione di famiglie italiane. Nelle scorse settimane sia il sindaco Cosimo Canito che il presidente del Consiglio Comunale, Marcello Lanotte, avevano espresso le proprie perplessità circa i reali benefici derivanti dall'installazione del parco, manifestandolo la necessità di promuovere un confronto con i cittadini. La stessa posizione è stata ribadita dalla presidente della Commissione Consigliare Ambiente, Patrizia Mele, in una nota diffusa l'indomani dell'ultima seduta. Non si può trascurare, si legge, che lo sviluppo delle energie rinnovabili come il parco eolico offshore proposto nel nostro mare offre potenziali benefici in termini di riduzione delle emissioni, di crescita economica e di indipendenza energetica. Vanno però considerati i possibili impatti negativi non essendo affatto garantita la tutela del paesaggio e dell'ambiente marino e terrestre. A questo si aggiunga l'impatto socio-economico, si pensi per esempio all'attività di pesca e al turismo marittimo e le legittime preoccupazioni per la salute pubblica legate alle possibili ripercussioni delle radiazioni elettromagnetiche generate dalle reti di trasmissione dell'energia.